Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti Eccomi finalmente tornata con un nuovo video Try on all sheen E' un po' di tempo che non giravo questi video E oggi ho tantissime, tantissime cose da mostrarvi Tra l'altro il pacco è ancora chiuso Mi è arrivato l'altro ieri e ancora non ho aperto nulla Mi è arrivato in due tranche Infatti una prima tranche ce l'ho qui E l'altra appunto è contenuta in questa scatola gigante Quindi se siete curiose di vedere che cosa ho scelto e come mi sta Mi raccomando state sintonizzate dopo la sigla Ok ragazzo la reccomi finalmente è tornata con un nuovo video try on all sheen Anzi mega try on all sheen perché ho tantissime, tantissimi capi da farvi vedere Sono molto contenta di girare questo video E come sempre il video è sponsorizzato da Sheen Quindi Sheen mi ha fatto scegliere tutti i prodotti e me li ha inviati gratuitamente Io qui giù in infobox come al solito vi lascio tutti quanti i riferimenti Quindi tutti quanti i link dei prodotti che sto per mostrarvi E il codice sconto Il codice sconto che potete utilizzare è questo Quindi mi raccomando approfittatene Questa campagna è davvero molto molto carina perché appunto Visto che si sta avvicinando la festa della mamma appunto È un'idea anche per poter fare un sacco di regalini alla vostra mamma Quindi qui sotto andate giù in infobox che trovate tutti quanti i riferimenti Io direi che possiamo iniziare Allora come vi dicevo mi è arrivato in due momenti differenti Cioè mi è arrivato il pacco gigante che devo ancora aprire E poi mi è arrivato questo pacco qui con altri prodotti all'interno Quindi sarà veramente un video infinito Iniziamo con questo che ho già aperto Allora Potevo scegliere non scarpe Ovviamente no ho scelto delle scarpe La prima cosa che vi mostro infatti sono delle scarpe Ho preso un 37 Ora non piaceranno a nessuno queste scarpe Ma io è stato proprio non so come dirvi Amore a prima vista Ok Ho scelto una ballerina Non giudicatemi Non giudicatemi perché le ballerine se messe con eleganza Sono molto molto carine E ho scelto una ballerina così Cioè è proprio il mio stile Uno stile super particolare Ed è una ballerina molto molto carina A punta Ok Tutta fatta così in vellutino Super bella Con un pochino di tacchettino E questa qua magari con un total black E se avete o una sciarpina O un qualcosa che richiami la stessa fantasia Secondo me è stra top Abbiamo appunto il gancino sul davanti Ed è veramente molto molto carina Mi piace tantissimo Veramente bella Mi piace tanto Poi pesco un pacchettino di Emery Rose Questo qui Ho preso una XL Le taglie secondo me variano dalle XL alle XL Perché mi sa che ho preso più XL che altro Questa volta qua Allora ho preso un pantalone Nero Sperandomi sia Insomma Allora Pantalone nero semplice Morbido Con l'elastico in vita Con le tasche Ok Di questa fantasia Cioè fantasia Questa trama qui Molto semplice Elasticizzato E scende giù Dritto È proprio un pantalone Nero semplice Non che io non ne abbia Di pantaloni neri Però Sapete quanto io Li sfrutti tantissimo Per andare al lavoro Mi piace proprio avere Il pantalone nero Un pochino più elegantino Un pochino fatto meglio Piuttosto che mettermi il jeans E E altro Quindi il pantalone nero Io devo dirvi la verità Lo sfrutto tantissimo E quindi ho deciso Di prendere questo qua Adesso poi Lo proviamo insieme E lo testiamo E vediamo Come mi sta Altro pacchettino Altro regalo Questo qui è del brand Hapshow Credo Non lo so XL anche di questo Vedo una fantasia Fiorellini Quindi vuol dire Che quando io compro Fantasia fiorellini Sono degli abiti Esattamente Mi sa proprio di sì Ok Ho scelto Un abito Aspettate che Non ho ben capito Forse adesso Ho capito Con il colletto Quindi abbiamo Sembra quasi Una camicetta Molto bello Questo vestitino Bello Allora Sui toni Del marroncino Nero Verdino Beggiolino Quei colori lì Sopra Fatto Semplice Quindi adesso Poi ve lo faccio Vedere indossato Comunque abbiamo Una scollatura E Le maniche Sono fatte così Con La pieghina Quindi abbiamo Scusatemi Un elastichino Qua Sul fondo Ok E la parte di sotto È tutta Plissettata Ora non si vedrà Granché Però è tutta Plissè Molto bella La parte di sopra No ma la parte di sotto È plissè Ma mi piaceva tantissimo Questa fantasia Lo sapete quanto io Ami gli abiti lunghi E me le metto Sempre tantissimi Anche per andare al lavoro Quindi questo Sarà uno dei prossimi Che andrò a mettere Al lavoro Mi piace Veramente molto Altro pacchettino Questo è del brand Sasson Sasson Ok Questo deve essere Un altro abito Ovvio Perché se l'Ale Non sceglie pantaloni Neri Sceglie abiti E se non sceglie abiti Sceglie scarpe Quindi Cioè questo Sceglie su Shein Anche perché trovo Che i loro abiti Siano davvero Davvero belli Ma veramente belli Allora Vediamo un po' Che abbiamo La cinturina Già legata Su Ok Ok Abbiamo Abbiamo quest'abito Qui Base nera Con questi fiori Di tanti colori Quindi questa è la fantasia Sul fucsia E sui toni del marroncino Ok La parte di sopra È semplice Quindi abbiamo solamente Una scollatura A V Ok Abbiamo l'elastico Sul fondo Dei polsini E qui abbiamo L'abito Che scende giù Dritto direi Molto bello Anche questo è lungo Mi piace tantissimo Anche con un abbigliamento Sportivo Nel senso che Potete alleggerire Un abito del genere Magari con una giacchina Di similpelle Oppure delle sneakers Delle sneakers Completamente bianche Oppure con Piuttosto che magari Con un tacco Che magari Con un Dr. Martins Non lo so È sempre molto bello Avere questi vestitini Perché potete giocarci Come come volete E questa qua Ho preso Anche di questo Una XL Ora ho preso Tutte XL Sono tutte grandi Complimenti Molto bene Poi Andiamo avanti Cioè Ma ho scelto Veramente tutti i vestiti Mi viene da piangere Allora Questo qua Anche No Questo qua È una L Ok Ma è una felpa Mi sa che ho sbagliato Qui Pensavo fosse Un Una sorta di Giacchina Di copri Tipo quei Quei Giacchini Da uscire Insomma Ma questa è proprio Una felpa Felpata Tra l'altro Fatta così Ok Tre colori Grigio Rosa E nero Ok No veramente Pensavo fosse Una cosa diversa Tra l'altro Le tasche sono anche finte Comunque Ha la cerniera E qui ha La parte felpata All'interno Ha il cappuccio Ma pensavo fosse proprio Un Un capottino Non so come dirvi Mi sembrava così Dalla foto Non in felpa Comunque Vediamo com'è Ok Vediamo com'è Magari mi sta anche bene Però Non lo so Vediamo com'è Prima di giudicare Ultimo prodotto Del sacchetto Troviamo Di Gomor Gomor Ok Un altro abito Credo E questo qua È uno dei miei preferiti In assoluto Perché È sui toni Chiari Dell'illa Questo è Pazzesco Ragazze Qui abbiamo Il cinturino Da legare in vita Come al solito Di questo qua Ho scelto un XL Ma perché degli abiti Ho scelto delle XL Ma vabbè Ma probabilmente Mi vanno anche bene Ok Questo è L'abito Adesso li vediamo Poi tutti indossati Ragazzi La bellezza Di questa fantasia Con tutti questi Fiori Sul lilla Super Super Primaverile Abbiamo due balze Abbiamo la prima E la seconda Ok È veramente Stupendo Super Primaverile Mi piace tantissimo Veramente Tanto 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 Ha l'elastico In vita E quindi Adesso Non ci resta Che provarlo Questo Lo vedo bene Proprio con Anche un infradito Di quelli Di quelli gioiello Quindi un sandalo gioiello Oppure appunto Come vi ho detto prima Delle sneakers Oppure da smorzarlo Completamente Con un biker Quindi secondo me È veramente bellissimo Mi piace tanto Quest'abito Apriamo Ok È tutto Guardate È pieno Questo pacco Vediamo che cosa Ho preso Tante cose Non mi ricordo Devo dire Allora 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 Io tiro fuori Random Allora Prima cosa Che tiro fuori Questa deve essere Una t-shirt XL Bianca Ok Fatta così Semplice Quindi Con i cuoricini Guardate che carini Con i cuoricini Tutti sul nude Molto belli Dal nude Al nero Credo Il marroncino scuro Bella Molto molto carina Di questa qua Appunto come vi ho detto XL Questa qua Da mettere appunto All'interno Dei pantaloni Magari anche Dentro un jeans E sopra magari Un blazer Molto carino Che riprenda magari Uno dei colori Che ci sono sui cuoricini Secondo me Bellissima Andiamo avanti Altro pacchettino Altro regalo Tra l'altro Queste bustine qui Con la zip Sapete che io Le riutilizzo Tantissimo Di questa Ho preso Una XL Ma siamo sicuri Di questo ordine Perfetto Allora Di questo ho preso Una XL Sì potrebbe essere Una magliettina Verdina Chiara Guardate che carina Con questa Fantasia Qui Molto molto bella Questa qua È a manica lunga Potete andarla Ad inserire appunto All'interno Dei pantaloni O delle gonne Molto bella Mi piace tantissimo Un verdino Super super Primaverile Guardate che carina È semplice Però magari Indossata Fa un altro Un altro Effetto Quindi La vediamo Indossata E vediamo Come mi sta Andiamo avanti Perché qui Mi sta che la strada È lunga Altro pacchettino Addirittura Questa Una 0XL Cosa ho combinato Non lo so 0XL Un pantalone Ah potrebbe anche Starmi in realtà Morbido Ok Allora Elastico in vita E questo È un pantalone Che scende A zampetta Vedete Molto carino Tra l'altro Un tessuto Estremamente morbido Sembra quasi microfibra Molto bello Il tessuto Mi piace Davvero tanto Sicuramente È un pantalone Da accorciare Perché ovviamente Io non sono Così alta Quindi ci sarà Da togliere Un bel po' Direi Però mi piacciono Un sacco I pantaloni a zampa Quindi sì Secondo me Il mio Le mie ciapette Qua dentro Ci entrano E come Quindi questo Veramente sono Curiosissima Di provarlo Ok Che cos'è Questo Allora XL Brava Complimenti Allora Che cos'è Questo ragazze Non me lo ricordo Proprio Allora Una cosa Aspettate Una Due Che cos'è Un set Un set Formato da Aspettate Vestito Praticamente Ha un vestito Lungo Un tubino Lungo Fino ai piedi Ma forse sì Ok Giro maniche Con la scolatura V Eccolo qua Lungo 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 Ok Quindi tutto nero E poi sopra Avete la possibilità Di mettere appunto Il maglioncino Ma che carino Questo Questa è una Felpettina Bianca Così Con l'ancora Bello Questo Set Mi piace Che carino Morbida Perché ovviamente È un crop Diciamo Morbido Vediamo come mi sta Sicuramente Con questo in abbinato Sotto Potrebbe stare bene Potrebbe Dai perché no Vediamo subito Altro pacchettino Altro regalo Eccola qui Ho preso Qualcosa XL Ma perché Nell'ultimo periodo Probabilmente Mi sentivo un po' più vacca Del solito Quindi È per questo Che ho preso Delle XL Quindi Ci sta Ok Allora ho preso Una magliettina Semplice Semplice Dai XL Molto semplice Questa qui Con i bottoncini Rosa Ok Fatta così A costine Morbida Sul rosa Non Sì Forse qualcosa avevo Però questa qua È un po' più sottile Quindi in questo periodo Ci sta ancora Da utilizzare Al lavoro Anche Molto carina Mi piace Con i bottoncini Poi non è male Ok Una scatolina Di scarpe Un 37 Preso Non mi ricordo Che cos'è Non ti trova nessuno Che bella Sì Ok Allora Se vi ricordate Io questo modello Di scarpa Ce l'ho già In bianco Comodissima Mi piace tantissimo L'avevo indossata Per un battesimo Mi ci sono trovata bene È molto comoda Il tacco non è tanto alto È un po' Un modello Anni 50 Bellissima E la metto anche Per andare al lavoro Strano ma vero Sì dopo un po' Cioè se devo stare 8 ore No anche no Magari dopo 2 ore Mi metto la ciabattina Per stare in farmacia Però Per fare l'entrata Ecco È molto bello No Sono veramente Molto comode Ho preso La stessa scarpa In verde Se ve la ricordate Questa scarpina qua Io ce l'ho già in bianco E mi trovo benissimo L'ho voluta anche in verde Perché comunque Se vi ricordate Cosa vi ho detto L'altra volta Quando vi ho mostrato Una delle ultime Degli ultimi blazer Quello con Con gli orsetti Vi ho detto Che avrei abbinato Una scarpa Comunque simile O dello stesso colore Cioè che riprendesse Qualcuno dei colori Della giacca E quindi questa Mi pareva Bellissima E quindi ho deciso Di prenderla Anche in verde Mi piace tantissimo Che abbia la punta Aperta davanti Poi il tacco Nonostante sia così Non è tanto Non è Come si dice Non è fastidioso Anzi Molto molto comodo Poi Altro sacchettino Questo qui Ho preso Una XL Ormai non ve lo dico Più che taglio ho preso Ah che carina Questa Allora abbiamo Una maglia Un maglioncino Fatto così A mezza manica Panna Fatto così Un po' tutto Alveare Vedete Fatto un po' simile Alveare Molto carino Con le maniche Fatte a sbuffo Laterali Fatta così Semplice A me il bianco Panna Piace tantissimo E quindi Questa qua Adesso La proviamo insieme E vediamo Come sta Molto bella Elasticizzata Veramente Veramente Molto bella Poi Vedo una cosa Molto molto spessa Ok Ho preso Una L Di questa Ma non so che cosa sia Devo dirvi la verità Non mi ricordo Ci sarà uno di quei cardigan Sicuro Che piacciono tanto Alla Ale Infatti Ho preso Un cardigan Un cardigan lungo Ok Grigio Bello Questi cardigan Potete anche uscirci In realtà Magari con una t-shirt Il jeans Una sneakers Borsa E ciao Siete pronte per Farvi un giro Veramente molto bella Al posto della giacca Secondo me Questi maglioncini Questi cardigan A me piacciono tantissimo Quindi è grigio Semplice Non credo abbia tasche Né nulla Esatto Semplicissimo Molto 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 carino Altro pacchettino Cioè Uno scandalo Ma cosa ho preso Ah una giacca Ma brava Finalmente Un giacchino Di che colore nero Ovviamente Perché andiamo nella bella stagione Ovviamente usa il nero Non perché L'ha fissata con il nero Allora Com'è fatta Fatta così Nera Ok Con le maniche In similpelle Molto carina Con il gancio Praticamente Sulla spalla Quindi il bottoncino Sulla spalla E rimane Un cappottino Mezzo aperto Praticamente Con le taschine E le rifiniture Tutti in similpelle Ora da qui Non rende proprio Zero Indossata Secondo me Rende molto molto di più Quindi la vediamo Insieme Di questa qua Ho preso Ve lo dico Perché non me lo ricordo Un XL per caso Un XL Ovviamente Quindi Giacchina Molto molto carina Tra l'altro Andiamo avanti Con questo Pacchettino Taglia Zero XL Addirittura Non ci facciamo mancare nulla Ah Che bella Che meraviglia Questa Mi piace tanto Ok T-shirt Morbida Morbidissima Perché è una Zero XL Quindi deve rimanere Molto over Ok Ho scelto questa T-shirt qui Con la scritta Smile In nero Bellissima Tra l'altro La scritta smile È Il rilievo Bella Scusate Bellissima Bellissima Molto morbida Quindi con la scollatura V Appunto potete andarlo Ad utilizzare E io adesso Poi ve la mostrerò Con il pantalone E il cardigan Perché secondo me Sta benissimo Quindi Magliettina Semplice Ma over Volevo un qualcosa di over E questa qua Mi sembrava proprio Super bella Poi io andrei adesso Con un altro paio di scarpe Ok Perché ho due capi Ancora da mostrarvi E un altro paio di scarpe Allora Scarpina 37 Ragazzi Io non mi ricordo Che scarpe ho preso Sono una vergogna Wow Sono toppissime Queste scarpe Che ho preso Allora Io ho visto questo paio di scarpe Non mi ricordo Online Ma mi sembra Che siano molto simili A quelle che avevo visto Di qualche brand Probabilmente Mamma mia ragazze Che meraviglia Cioè Cosa non sono Queste scarpe Ok Avete ovviamente Il gancino Fatto così Elastico Il tacco Non è tanto alto Ma ragazze Avete una scarpa Che non è una meraviglia Di più Anche di questa Ho preso Un 37 7 Sì Assolutamente Sì Ok Ed è bellissima Guardate quanto brilla Abbiamo tutti i brillantini E tutte le Perline E abbiamo una scarpa Che è comunque Simil trasparente È molto bella Questa scarpina qua Davvero Davvero Bellissima Quindi non vedo l'ora Di iniziare Ad utilizzare Perché deve essere comoda Quindi magari Anche per Non lo so Qualche serata Particolare Una cena particolare Non lo so Mi piace Moltissimo E trovo che Questo tacco Così corto E basso Siano comodissime Quindi Scarpettina Super wow Poi Altro pacchettino Secondo me Qui c'è Un pantalone Credo Esattamente Allora Ho preso Una L Una L Ma sei sicurale Di quello che hai fatto Non lo so Sì forse sì Allora Questo è Il mio solito Pantalone Che prendo E riprendo E riprendo E riprendo Perché è il pantalone Che io uso Sempre Simil jeans Ok Molto morbido Ok Ed è corto E finalmente Eccolo qua Super corto Perché questi Qui sono quelli Praticamente Modello capri Che sono quelli Un po' più Alti alla caviglia Questo jeans Ragazze È Comodissimo L'ho preso E ripreso In tutte le salse E questo qua E questo qua È veramente Bello Morbido Guardate Dell'altro che avevo Che l'ho distrutto Completamente Con le mie cosce Che sfregano Ecco Si è rotto Si è rotto Ebbene Si E quindi Nulla Dovevo ricomprarlo Nuovo E ne ho approfittato Appunto Per Di questa collaborazione Per riprenderlo Perché è Comodissimo Quindi Questo jeans Qui Poi Altro Vestitino Direi Ho preso Un XL E questo qua È un vestito Con Molto simile A un vestito Che ho già Che utilizzo Sempre Che In autunno E in primavera Lo metto tantissimo Con degli altri colori Però con i colori Quelli Beggiolino Marroncino Verdolino E invece Questa volta qua Ho deciso di prenderlo Di questo colore Pazzesco Cioè per me Questo è un colore Super bello Tra l'altro È la stessa identica Fantasia dell'altro Che ho Ma con questi colori Che tendono Al blu Quindi è Meraviglioso È proprio È simile Veramente Non è proprio uguale Devo dirvi la verità Non è proprio uguale Ok Molto simile Però con questa fantasia Qua Super 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 Wow Anche questo è Lunghissimo E questo qua Anche lo indosserei Con O Dei Biker O delle scarpe Delle sneakers O Un tacco Se volete essere Più eleganti Più carine Eccetera Eccetera Oppure con Dei Camperos Io e i camperos Siamo una cosa sola D'inverno D'autunno Li metto sempre Corti Alti Bassi Piccoli Scamosciati Di pelle Ok I camperos Sono la vita Bellissimi E quindi niente Questo è Il vestito Che è estremamente lungo Speriamo che Non debba farlo accorciare Perché Non lo so Non vi so Proprio dire E finalmente Siamo arrivati Alla fine Di questo Mega Try on All Altro paio Di scarpe Sempre 37 E mi sa che Anche qui Ho scelto Un tacco Infatti Ragazzi Questo tacco È Super Appena Appena l'ho visto Me ne sono innamorata Tantissimo Proprio È un po' alto Il tacco Devo dirvi la verità Però è Bello 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 E sto parlando Di questo sandalo Qui Allora abbiamo Il tacco Un po' più alto Sempre 37 Con le rifiniture Qui scamosciate Verdine E qui scamosciata Gialla Guardate Che Meraviglia Di scarpa Che abbiamo E qui dietro è scamosciata Ovviamente nera Qui abbiamo il nostro Gancino Da attaccare alla caviglia Ed è una scarpa Super super wow Quindi questa è La scarpina Estremamente Estremamente Bella Quindi niente ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E vi abbia tenuto compagnia Fatemi sapere Se Vi è piaciuto Il mio shopping E Ovviamente Se Utilizzerete Il codice sconto Per fare Shopping anche voi Su Shein Mi raccomando Piccola precisazione Mi dite tutti Sempre Sotto al video Non si pronuncia Shein Ma si pronuncia In un altro modo Si pronuncia Shane 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 No ragazzi Si pronuncia Shein Loro ci tengono Tantissimo Alla loro Alla pronuncia Del loro brand Perché è giusto Che sia così Loro mandano Un briefing Appunto Quando si fanno Queste collaborazioni Dove ti Chiedono Gentilmente Di pronunciarlo Giusto E la pronuncia Giusta Ragazze Mi dispiace Per chi Continua a insistere Sotto i video Perché ogni volta Sempre la stessa storia Due palle Sempre la stessa storia Continuate a dirmi Eh ma non si pronuncia così E non si pronuncia così E non si pronuncia così E non si pronuncia così Sì Date retta A una Come me Non so quanto Però Vi posso garantire Che si dice Shein Quindi Io ovviamente Ringrazio Shein Per questa Opportunità Di avermi Fatto provare Tantissimi Dei loro capi E di avermeli Inviati Mi raccomando Andate giù in info box Perché vi lascio Tutti quanti I riferimenti E il codice sconto Da poter utilizzare Sull'intero sito Noi ci vediamo Prossimamente ragazze Con nuovi video Vi mando Tanti super mega bacioni Ovviamente Io vi aspetto Giù nei commenti E fatemi sapere Qual è il capo Che mi sta meglio Ciao ragazze Ciao